Oggi è 2 ottobre 2016 stiamo andando a visitare la zona di Calamosca che bello, pieno di tunnel, il faro, tante altre cose Siamo arrivati, andiamo Noi stiamo andando a visitare il tunnel della seconda guerra mondiale guardate, anche i fortini Siamo arrivati, ecco il tunnel della seconda guerra mondiale Che bello, guardate, incredibile Silenzio, sta aumentando dentro ragazzi Qualcuno Guardate Questi sono delle tonghe Incredibile Guardate Cioè, abbiamo trovato una cosa bellissima La casa della strega di Calamosca Guardate La casa di Blair Witch Project C'è anche un, questo opera tanto Eh, ecco il cazzo Eh, però, se ti scherzi Che bandali Ma guarda Che, che, che brutto faccio Paraccia assurde Quanto è in contatto con loro C'è qualcuno qui dentro, qui con noi Incredibile Guardate che, che tunnel Si rifugiavano qui Nel secondo guerra mondiale Con gli aerei Dei nemici arrivarono a combattere Loro qui erano sicuro Ve lo vedete Il soffitto è sempre tutto intero Guardate quanto è la profonda Pieno di bottiglie vecchie Noi andiamo a visitare Naturalmente La cosa più importante Che è la mosca Il faro Adesso noi Proviamo a entrare qui dentro Questa casa Se si può entrare Perché Così provo a sentire Per visitare Da dentro Che cosa c'è Entriamo Ciao A casa del faro Guardate Questo è Il faro Noi La torre Molto antica Della seconda guerra mondiale Non so che sia Molto vecchio Guardate Mi ha fatto ancora Intero Guarda Lì c'è il simbolo Perché Siamo proprio dentro La La casa Della marina militare Del capo Sant'Elia Guardate Qui c'è il piano Ecco La signora È stata Molto gentile La signora Ragazzi Ciao ragazzi E buon pranzo a tutti Ciao